Consigliamo il Furban Fridge a tutte le aziende che come noi vogliono offrire ai propri collaboratori una pausa pranzo sana e allo stesso tempo di qualità comodamente in ufficio. Nel nostro ufficio abbiamo pensato di mettere a disposizione per i nostri colleghi due Furban Fridge e una macchina del caffè. Ciao, siamo Jessica Leonardo del team Marketing e Comunicazione di Masar. Da quando abbiamo Furban Fridge in ufficio è diventato tutto più semplice, riusciamo a risparmiare tempo senza dover uscire dall'ufficio e non dobbiamo cercare il ristorante dove andare. Inoltre abbiamo una selezione di piatti freschi da cui scegliere e che cambia settimanalmente rendendo ancora più facile la pausa pranzo. Promuovere uno stile di vita salutare in azienda significa sicuramente migliorare il benessere e la salute dei colleghi e anche creare le condizioni di maggiore produttività. Abbiamo conosciuto Furban Fridge quando eravamo in ricerca di una soluzione per la nostra area break in ufficio. Da subito ci è sembrata una soluzione innovativa, flessibile, conveniente che si adattasse alle nostre esigenze. Inoltre, dando la possibilità di pagare con i buoni pasto, faccio ancora di più la pausa pranzo in ufficio. Scegliere Furban significa scegliere uno stile di vita che metta al centro un'alimentazione consapevole, sostenibilità e benessere. Inoltre, esposiamo i suoi valori. Infatti, Furban utilizza materiali compostabili e confezioni 100% riciclabili e inoltre combatte lo spreco recuperando le eccedenze alimentari in collaborazione con importanti organizzazioni no profit. Furban Fridge è facilissimo da utilizzare. Basta scanalizzare il QR code, selezionare il prodotto che si vuole acquistare, pagare con carta di credito o buoni pasto. Un automaticamente il frigo si sbloccherà e a quel punto potete prendere il prodotto, riscaldarlo e consumarlo.